il pupo e la secchiona prosegue cari utenti di youtube la cosiddetta chiamiamola rubrica che la bella federica paricucci ci ha abituato già da qualche ormai puntata di le iene intitolato l'appunto il pupo e la secchiona in cui abbiamo un bello e sexy uomo che per l'appunto fa la parte del pupo nella puntata di ieri abbiamo avuto il buon fernando vitale e dall'altra parte però abbiamo la secchiona la donna che purtroppo e scusate la donna che diciamo così è molto intelligente e che tra virgolette si per così dire ingegna per far studiare il pupo quindi l'uomo molto sexy l'uomo molto bello insomma non è altro questa che come il tuo genere altri video di quiz friends youtube che la versione di violenza del famoso rarity show che andava in onda sui tele 1 la pupa e il secchione però in questo caso qui è il pupo e la secchiona vi ringrazio per l'ascolto cari utenti youtube evitare i dono